Carissimi utenti, secondo tempo dell'incontro di calcio tra Savignanese e Villanova 1-0 è terminato il primo tempo a fuori della Savignanese con la rete messa a segna da Macchione Eccola nelle immagini Macchione, l'autore del primo gol, fallo, punizione Punizione battuta, Granata che avanzano, pallone al numero 8 Ossia Chillo, la sfera numero 6, Mottola Fallo, punizione secondo l'arbitro, ricordiamo che qui si gioca sotto la pioggia Biancovelli in avanti, pallone al numero 4, Tarone, si cerca una triangolazione Ancora il pallone in profondità, ottimo questa iniziativa di Granata della Savignanese Fallo, punizione Per la Savignanese il lancio in profondità, la sfera in verticale, difesa molto bene dai biancoverdi Cercavano, ecco d'Alessandro cercava di potersi inserire in questo contesto nell'iniziativa offensiva La palla è terminata nelle mani del portiere Panzette, il quale lancia la sfera oltre il centrocampo Il biancoverdi nuovo in azione Granata che in tal caso spazzano la palla via, rimessa laterale per il biancoverdi in avanti Soberto Michele Granata che in tal caso avanzano Fallo, attenzione, sul numero 4 Pucci, l'arbitro, rimessa laterale Per la squadra della Villanova Recupera la Savignanese, Chillo Chillo in azione, si lancia in velocità L'apertura sulla sinistra Per Macchione Subito di prima Il pallonetto Vicino al gol la Savignanese Che prova a raddoppiare il risultato Intanto giocatore a terra No, si rialza Chillo Fondo aria Il lancio di destro Pallone oltre il centrocampo C'è l'avanzata I Granata fermano il gioco Col numero 6, Mottola Biancoverdi in avanti Ci provano di sinistro La Savignanese, attenzione È stata colpita da quest'iniziativa Biancoverdi del Villanova Il Villanova stava per pareggiare il risultato Però è stato molto bene E molto bravo Postiglione A controllare la strategia offensiva Della squadra ospite Ed ecco come la difesa si muove molto bene Ricordiamo la difesa del Savignanese Formata da Postiglione Morra Cordoro Pucci Popolo Mottola Si stanno venendo molto bene in difesa In modo tale da poter controllare il gioco Ecco appunto Cordoro Poi c'è Popolo col numero 5 Che difende Flammia Intanto rimessa laterale A favore del Villanova Rimessa laterale Il lancio In area di rigore Ci prova il Villanova A poter pareggiare i risultati E ottiene un corner Ricordiamo il risultato 1-0 a favore della Savignanese Squadra di Savignano e Pino Il cross Il Villanova pareggia con Flammia 1-1 1-1 il risultato Si riparte da centrocampo Savignanese in azione Padone al numero 8 Chilo Sfera sul laterale destro C'è l'avanzata della Savignanese Che continua il mio tre gioco Pallone al centro campo Ancora Granata in azione Spazza una palla via Rimessa laterale Ancora Granata Fallo Punizione Secondo l'arbitro Punizione Villanova in azione Il cross In area di rigore Pallone fermato da Granata Bravo Cuor d'oro Passaggio arretrato per Postiglione La Savignanese Cerca di nuovo l'assalto Ecco le immagini di Postiglione Che gestisce molto bene Vigila Sull'area di rigore Propria Ancora Granata in azione Il cross In orizzontale Attenzione La Savignanese Può raddoppiare il risultato Ci prova Cuor d'oro Cuor d'oro sul pallone Pallone a popolo Pucci La sfera ai limiti Dell'area di rigore Ancora Pucci in azione Pucci recupera Bravo Ecco le immagini Pucci Calciatore che Merita Altre categorie superiori Come si può vedere Dalle immagini Pucci Bravissimo Questo intervento Di Pucci Che sta giocando davvero Una grande partita Giocatore che si impegna Moltissimo Sulle palle Il lancio Ci lavora Il lancio per Chiuchiolo Cerca l'ingresso in area di rigore Poi appunto Mottola Pallone al numero 08 Chilo Chilo Villanoma che Spazza via la sfera Ancora il numero 2 Ossia Morra Palla a terra Pucci Pallone a terra Chilo Chilo Attenzione Fallo Punizione Ed ecco i Granata Che si avviano a battere Questa punizione Per potersi lanciare In area di rigore Batte Mottola Il capitano Intanto ci sono una serie Di riscaldamenti Sulla panchina Della Savignanese Il cross Ai limiti D'Alessandro Gioca questa sfera E adesso La Savignanese Tenta l'assalto In area di rigore Per poter raddoppiare Il risultato Savignanese in azione Pallone che viene deviata Ardanese Il tacco viene perso Recuperato Da Pucci Passaggio al retrato Per Popolo La sfera a Mottola La palla viene girata Sul laterale destro A Morra Morra Si gira Gordoro Poi perde palla Ancora in azione La squadra Popolo Di casa Che avanza Villanova in azione Di gioco Palla in profondità Il Villanova Tenta l'assalto Il tiro finale Di sinistro Del numero 10 De Feo Il pallone Termina alto Sulla traversa Savignanese In azione Il lancio Aldona Centrocamp Bravissimo Chillo Svetta di testa De Feo Il sinistro Per Ardanese Ma interviene Cordoro Bravissimo Postigliore Che difende La porta Intanto Il giocatore A terra Si ferma Il gioco Si ritorna A giocare Con la palla Riconsigliata Postigliore Granata in avanti Ed ecco Popolo in azione Il lancio Di destro Sfera in profondità Palla recuperata Dalla squadra Di Villanova Secondo l'arbitro C'è fallo Commesso Punizione Una Savignanese Che sta facendo Di tutto e di più Per poter vincere Questa partita Arbitro Sta già sputato In capo Può sta passando Qua Scusi Ma è la formata Assaltata Da rete Il cartellino Arbitro Ti faci t'ansia Secondo me Sì sì Non sai contagli In alto Contagli Treddo Può sta passando Punizione Per il Villanova Il lancio In area di rigore Interviene Possiglione Che blocca Ancora in gioco Ed ecco Scatta il contropiede Pallone di Maccione Morra Pallone Sul laterale destro Aumentano Aumenta il ritmo La squadra granata Della Savignanese Fallo Punizione Punizione Per la Savignanese Che adesso Cerca di poter Pareggiare Il Scusate Raddoppiare Il risultato Sul pallone Chillo Nelle immagini Il giocatore Davvero Molto Tecnico Di Tecniche Elevate Non solo L'incontrista Ma Gioca Anche Una posizione Arretrata Cioè Insomma Un fac totum Del centro campo Intanto C'è una sostituzione Sulla panchina Entra appunto Maraia Eccolo le immagini Al posto di Ciccone Maraia in campo Punizione Per la Savignanese Il cross La finta In area di rigore Di D'Alessandro Blocca il portiere Del Villanova Che lancia il pallone In avanti Il destro Sfera recuperata Da Ardanese Fallo Attenzione E l'arbitro fischia Fallo Su Flamia Per l'arbitro E punizione Il destro Pallone in area di rigore Interviene Postiglione Che blocca Una Savignanese Alla grande Che davvero Sta dimostrando Di difendere Il risultato Palla a terra Pallone per chilo Ed ecco in velocità La squadra Del presidente Postiglione In avanzata Con Morra Morra in gioco Morra bravissimo Il dribbling Il cross In area di rigore Vicino al gol È la Savignanese Che ha tentato Giustamente Di poter Raddoppiare Il risultato Fondo area Il lancio Sfera fermata Ecco Macchione Cerca di difendere Al meglio Questa avanzata Ecco nelle immagini L'autore Del Primo gol Pallone per chilo Savignanese Che continua A gestire Alla meglio Il gioco I biancoverdi Del Villanova Avanzano Aldanese Di testa Pallone in area Di rigore Bravo Morra Che si svincola E spazza La palla via Roberto In azione Pallone che viene Perso L'1-2 E secondo L'arbitro La palla è uscita Fuori dal rettangolo Di gioco Anzi Punizione Granata in avanti C'è una sostituzione Entra Raffa In sostituzione Del numero 3 Guardoro Punizione Punizione Savignanesi In azione Pallone A numero 8 Chilo Quindi Pucci Chilo Pallone al numero 2 Morra Pucci Ottima la giocata Passaggio arretrato Alla squadra Della Savignanese Pallone Pallone al numero 6 Il capitano Mottola Dinuola Savignanesi In gioco Si cerca uno spazio Fic tra sul laterale Sinistro Savignanesi In azione Il cross Per il numero 10 D'Alessandro La palla All'interno destro Viene fermato E i bianco-verdi Aumentano il ritmo di gioco Si cercano di piazzare La pallina del rigore Interviene poi La difesa Della Savignanese C'è una deviazione Fondoare Ed ecco Appunto In granata In azione Pallone in fase avanzata La triangolazione Attenzione Pallone che però Termina sul fondo Savignanese In azione Mottola Fallo Punizione Su Ardanese Punizione bianco-verde Il cross In area di rigore Pallone La finta di Postiglione Che gestisce bene il gioco Fondo area Si riparte dall'area di rigore Con la Savignanese In azione Pallone in profondità Svetta di testa La squadra bianco-verde Ed ecco l'apertù Chillo 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 Attenzione Si apre un varco sulla sinistra Poi preferisce la destra Chiudiolo Ballone che termina sul fondo La Savignanese Poteva andare vicino al gol In questo caso Fondo area Per la squadra del Villanova Vai Ciamolo Vai Ciamolo Entra in campo Iorizzo Ecco le immagini In sostituzione di Roberto Del numero 23 Ecco Iorizzo Nelle immagini Entra in campo Fondo area Per il Villanova Bianco-verde in azione In lancio Pallone in profondità Si cerca una triangolazione La Savignanese Però tutela al meglio Con Raffa L'area di rigore Ardanese Ancora la squadra di casa Che con Iorizzo Cerca di ben figurare La squadra ospite Ed ecco che C'è l'attacco Da parte del numero 9 Chiudiolo Pallone per Morra Che difende bene la palla Se era rasa a terra Pucci Fallo Punizione Secondo l'arbitro Pucci Ancora di Granata D'Alessandro Chillo Spalla in orizzontale In lancio Fallo Punizione 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 Per il Villanova Punizione Gianpaolo Gianpaolo Eh bravo Oh tre tre eh Che cosa è? Punizione per il Villanova Uno a uno Il risultato ricordiamo Tra Savignanese E Villanova Raffaele Tu arrivi già Raffaele Intanto Intanto c'è una sostituzione Sulla panchina Granata Esce in questo momento Il numero 7 Ossia muto Ed entra il numero 17 Fondo area Batte Il sinistro Il sinistro Il sinistro Fallo Fallo Punizione Fallo punizione Fallo punizione Pallone ai limiti Ribattuto Ribattuto Chillo Il lancio Ed ecco che scatta di nuovo l'iniziativa con Macchione Macchione Chillo È giocatore a terra Si ferma il gioco Quindi è entrato appunto il numero 17 Resce La palla viene riconsegnata Alla L'area di rigore Di Possiglione Ed ecco appunto E Granata La Savignanese Aumenta il ritmo di gioco D'Alessandro Palla a terra La sfera numero uno Con la triangolazione D'Alessandro poi Perde palla Ancora la Savignanese in azione Chillo In avanti Si cerca di poter Piazzare la palla al centro L'area di rigore Macchione Pucci Sposta il gioco Il passaggio però Viene intercettato Dalla squadra bianco-verde Del Villanova Palla fermata Raffa Palla fuori Rimessa laterale Partita molto combattuta Qui allo stadio Di Savignano Il Pino Con La Savignanese Di nuovo in gioco C'è un fallo Punizione Secondo l'arbitro Bianco-verde in avanti Che cercano di puntare Sotto la porta Bianco-verde in azione Nuovo la Savignanese in gioco Cerca di controllare L'area di rigore Villanova in azione Il tiro finale Pallone che termina fuori Savignanese in azione Di nuovo la palla in orizzontale La palla per Chillo Granati in azione Chillo La finta Chillo ancora Bravissimo Bravissimo Chillo Fallo su Chillo Per l'arbitro È punizione Marchellino Fabio Stasera Riunio il capitolo Dai Roscio Dai fuori Michele Granati in avanti Ripartono con il capitano Matteo Matteo c'è E allora Gennaro Fallo i sagli Però Non butti I cagotti In difesa Il capitano Mottola Lancia il numero due Morra Morra in azione Velocizza il gioco Morra Si cerca una triangolazione La pallina Chiudiolo Vicino al golla Di nuovo la Savignanese Che adesso davvero Sta dominando la gara Puopolo Chillo Puopolo Mottola Gennaro Guarda qua tu Gennaro Il lancio Chillo Bravissimo Padone sul laterale destro Pallone in aria di rigore La pallina è spazzata via Sera che termina fuori Granati in avanti Cambia Gira Vai Palla in profondità Di nuovo Morra In gioco Macchione Pucci Il lancio Per Morra Intercettazione La sfera Rimessa laterale Per i Granata Che cercano di poter Riuscire a Tiro finale Bella Questa girata Di Macchione No Di D'Alessandro Eccolo nelle immagini Grande regista E rifinitore In aria di rigore Che ha tentato Di poter raddoppiare Il risultato Fondo area Il lancio Ancora i Granati In azione A mezzano il passo Con il numero 11 Macchione La triangolazione Sfera numero 4 Ed ecco Popolo Mottola Chillo Il lancio per D'Alessandro Il lancio per D'Alessandro Palla a terra Sfera spezzata via Sfera spezzata via Mottola In gioco Al portiere Palla a portiere Postiglione Ancora la savignanesi Ancora la savignanesi In azione Di gioco Si cerca di poter Lanciare la palla In profondità Sfera numero 4 Fucci In destro In area di rigore Attenzione Fallo Secondo l'arbitro Punizione Punizione Per la squadra Del Villanova Sta entrando In campo Florido Si sta riscaldando Il numero 13 Un'altra strategia Tattica Per la panchina Della savignanese Noi granata In azione Chillo In azione di gioco Pallone In azione Con Macchione Pucci Chillo Chillo Il chilo finale Deviazione Chiuchiolo Il Tegero Pallone ribattuto Ancora la savignanesi In azione Palla raso terra Per Morra Ottima la sua partita Mano Chiuchiolo Fucci In lancio Sulla sinistra In velocità Macchione La triangolazione Macchione In area di rigore Cerca di piazzare la palla Poi viene persa La savignanese Vicino al gol E il Villanova Adesso scatta in contropiede Per una palla Troppo veloce Che termina direttamente Nelle braccia Di Postiglione Fondo area Lancia Lancia Madone che viene perso Ai limiti Ancora la savignanesi In azione Cerca di poter condizionare Il gioco E di dominare E raddoppiare Il risultato Di nuovo La squadra granata In avanti Giocatore a terra La palla viene spesa fuori Si ferma il gioco E Florido Sta ancora sulla linea Laterale Rimessa laterale Bianco-verde Il lancio Granata In azione Vai E' buono Matteo Matteo Arce la testa Guarda Bravo Matteo Buono Matteo Vai Rocco Mettia da dentro Morra Morra Tiro finale In area di rigore La savignanese Va vicino al gol Ballone deviato Rimessa laterale Per la squadra granata Savignanese in azione Il lancio Per Chillo Il cross Chiucolo Chiuchiolo La rovesciata Ancora Chiuchiolo E tiro finale Palla spazzata via Ancora i granati in avanti Proseguono Cercando di poter Gestire il gioco E lo fanno molto bene Il lancio in area di rigore Deviazione Dai dai Strici Strici Palla che viene persa Ancora la savignanese in azione Ci prova Il cross In area di rigore Chiuchiolo Ballone spazzato via Fallo Punizione Punizione Il lancio Ai limiti Savignanese in azione Bravo Chillo Uno dei migliori in campo Oggi qui a Savignanese in pino Il lancio in profondità Per Macchione Il diagonale Per il numero 9 Chiuchiolo Bravo Chiuchiolo In azione Chillo Chillo Il cross Padone ribattuto Palla fermata Chillo In gioco Il lancio Fermato a centrocampo Ancora la savignanese in azione Granata in gioco Palla per D'Alessandro L'apertura di sinistro C'è un disguido In area di rigore Attenzione Pallone che poi viene spedito fuori Rimessa laterale Rimessa laterale Attenzione Come funziona adesso Vediamo un attimo L'arbitro cosa ha deciso Ecco rimessa laterale Appunto a fuori Della savignanese Il lancio Deviato Stiamo calmi Stati calmi Si cerca di tirare in porta La pallone Pallone che viene deviato Rimessa laterale Per il Villanoma Attacca Attacchiamo Il lancio Granata è avanti Pucci Il destro La punta Pucci Pallone ai limiti Il destro Termina fuori Pucci 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 Dai Gigi Dai Gigi Dai Gigi Esagerato Rimessa laterale Palla a terra La triangolazione Morra In area di rigore Secondo l'arbitro La palla è uscita fuori Il rettangolo di gioco Il lancio Granata in azione Chilo Chilo Passaggio arretrato Per il numero 4 Pucci Chilo C'è un errore Uno dei migliori in campo Comunque il numero 8 Davvero è stato fenomenale Oggi qui allo stadio Di Savignano Il Pino Chiuchiolo Ancora chiudono in azione C'è un tiro Morra Vicino al gol E ottiene il corner La Savignanese Stava per raddoppiare il risultato Con il numero 2 Morra Corner Dalla bandierina Il numero 8 Chilo Il sinistro Il cross Rete La Savignanese La raddoppia il risultato Se lo merita Davvero una grande Il numero 2 Morra È stato proprio lui Uno dei migliori in campo In questi ultimi minuti di gioco Savignanese 2 Villanova 1 Grazie al gol di Morra Che ha raddoppiato Il risultato Ed è fuori dalla zona play out Raggiungendo il bisaccia E adesso si avvicina Centro classifica La squadra della Savignanese Ecco le immagini Morra Bianco verde in azione Chilo Fallo punizione Si riparte da centrocampo Finisce la partita Grazie dell'attenzione Punizione per la Savignanese Secondo l'arbitro Ognuno è sciogliere Ognuno è sciogliere Ognuno è sciogliere Vai Taffi C'è Raffi C'è Raffi Le marcature Di messa laterale In lancio Padone in profondità Bianco verde Di che recuperano Il tegel Sfera che termina fuori In lancio Il tegel Sfera che termina fuori Balla spazzata via Balla spazzata via Balla spazzata via Raffi 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 vai lungo linea Danati in avanti Il lancio di Morra Pallone in profondità Bianco verde Che recuperano ancora Florido Florido in azione Perde palla Bianco verde Che ci impiegano Tutta l'energia Per portarsi in avanti 2 a 1 Il risultato Per la Savignanese